Siamo arrivati ad oggi, di fatto si chiude un capitolo ma si inizia di fatto perché comunque abbiamo sicuramente il senso di responsabilità dell'importante e gravoso incarico che ci è stato affidato ma siamo qui per servire la città e in questo senso dovremo lavorare ancora più intensamente, in questo caso direttamente su Amia Verona perché oltre che l'atto di acquisto stamattina le due assemblee hanno deliberato che Amia VR che rimarrà per alcuni mesi come holding avrà come amministratore unico me stesso e che io e il consiglio e il mio CDA diventiamo i gestori, gli amministratori del CDA di Amia Verona, la società operativa. Questo in prospettiva di chiaramente continuare e cercare di dare il nostro apporto al miglioramento del servizio sulla città, sicuramente chiedendo l'apporto dei cittadini perché comunque abbiamo degli obiettivi molto importanti in termini di miglioramento della quota della differenziata rispetto all'indifferenziata, noi partiamo da un 52% sul quale dobbiamo sicuramente migliorare in base anche alle regole perlomeno regionali, oltre che di rispetto per l'ambiente e anche di gestione finanziaria perché tutta l'indifferenziata ci porta via risorse economiche che invece devono essere destinate al servizio alla città. Oggi inizia un percorso che prevede importanti novità, intanto che nei prossimi tre anni la città vedrà cambiare il sistema di raccolta passando a un sistema cosiddetto combinato quindi con cassonette di accesso controllato per alcune frazioni e porta a porta per altri. Ci saranno cambiamenti anche dal punto di vista del regolamento dei rifiuti che approderà in consiglio comunale a breve, soprattutto sul tema dei controlli ambientali, sappiamo che abbiamo una percentuale di raccolta differenziata molto bassa, questo ci penalizza anche da un punto di vista economico perché la regione penalizza e penalizzerà chi ha percentuale di raccolta differenziata bassa e quindi noi dobbiamo da una parte comunicare meglio, efficientare meglio servizio, dall'altra far sì che i cittadini che fanno bene la differenziata possano vedersi anche tutelarsi, essere tutelati rispetto a chi magari invece non la fa. Nel tema del verde ci sarà una rivoluzione nel senso che finalmente da gennaio avvieremo il censimento del verde, quindi le 60.000 piante del Comune di Verona che ci vorranno circa 5-6 anni per completarlo, però è un lavoro che non è mai stato fatto e finalmente vedrà la luce. Altri servizi che cerchiamo di riportare nel contratto del verde che oggi non gestisciame che non sono gestiti in modo efficiente sono quello della deratizzazione e quello della disinfestazione delle zanzare, quindi interventi importanti che hanno una ricaduta su tutti i cittadini veronesi.